Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di una nuova notizia di calcio mercato, nonché il primo acquisto della stagione 2023-2024 per il nostro Lecce. Si tratta di Pontus Almquist Eric Schule, esterno classe 1999 proveniente dal Rostov, squadra dell'Esaria russa e arriva in prestito. Prima di cominciare a parlarne ovviamente vi invito a lasciare tanti pollicioni in su e iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto e fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo nuovo acquisto. Allora che dire, Pontus Almquist appunto come detto poc'anzi è un esterno d'attacco esterno destro, può ricoprire però anche il ruolo di seconda punta e anche all'occorrenza di punta centrale. Il suo valore di mercato si aggira intorno a 2 milioni di euro e in tutta la sua carriera fino ad ora ha disputato 155 partite, ha segnato 28 gol e ha fornito 15 assist. Nell'ultima stagione, ovvero nella stagione 2022-2023, con il Pogon, squadra della Serie A polacca, in prestito ovviamente da Rostov, ha segnato 5 gol e ha fornito 6 assist. Quindi comunque è un giocatore incline sia a segnare che a far segnare. Ovviamente potrebbe essere un'ottima riserva di Gabriel Strefezza, sperando ovviamente che possa rimanere. Chiaramente le offerte per l'ala brasiliana sicuramente arriveranno, perché comunque ha fatto una grande stagione. Però speriamo ovviamente di trattenerlo e di avere chiaramente Pontus come ottima riserva per Strefezza. Volendo potrebbe anche fare l'esterno sull'altra fascia, ha anche chiaramente delle presenze con la Svezia Under 21, 5 presenze e 2 gol per lui. Allora, questo è quanto ragazzi, breve video, però volevo parlarvi brevemente su questo nuovo acquisto. Ci vediamo ovviamente in un prossimo video, forse le c'è sempre. Vi ringrazio per aver visto questo video e ciao a tutti.